e ci parla di origine scenario attuale della diversità culturale appunto in germania germania come il laboratorio dell'integrazione insomma perché un paese di immigrazione di lunga data e di diverse ondate di immigrazione nell'arco degli ultimi 70 anni e quindi è un come dire un caso di studio particolarmente interessante per cui ti do la parola grazie presidente prima devo dire che è un'enorme soddisfazione essere qua a cività nuova per il secondo anno consecutivo per l'università di camerino grazie all'invito della professoressa maria cristina di cico a chi ringrazio fortemente per tutto questo rapporto professionale e di amicizia e fondamentale per il rapporto tra l'università di san paolo e l'università di camerino e è anche una soddisfazione di avere qui in pubblico i nostri primi due studenti dell'accordo di doppia laurea che è questo programma abbastanza innovativo tra le nostre università e allora oggi parlerò sulla germania anche per essere il mio campo di studio che studiato anni in germania in questa questione particolare molto ben detta del nostro presidente che la germania è un esempio abbastanza paradigmatico perché la germania può essere vista come questo esempio paradigmatico di un modello di incorporazione ispirato all'esclusione che prevede l'inserimento dei migranti in alcuni ambiti sociali in particolare nel mercato del lavoro negando loro al contempo il diritto di partecipare alla vita politica e di acquisire la cittadinanza questo era il modello impiegato nella germania del dopo guerra alla base di questo modello c'è la nozione di gastarbeiter lavoratore ospite e la idea di soddisfare le necessità del sistema produttivo nazionale immettendo lavoratori stranieri per un tempo determinato senza prevedere il loro istanziamento definitivo è evidente come il modello di integrazione tedesco così formulato di origini a numerose problematiche e critiche a partire dal trattamento riservato alle seconde generazioni tuttavia negli anni 90 si vede una nuova concessione del fenomeno migratorio e ha preso avvio un lento ma progressivo processo di ripensamento e mutamento nel senso della moderazione di tale modello ovviamente però che le conseguenze di questo modello possono essere osservate nella società tedesca attuale la diversità culturale della germania di oggi dimostra le difficoltà e la necessità dell'integrazione per effetto dei massicci processi migratori che le hanno investite soprattutto negli ultimi tre decenni le società europee sono divenute sempre più società in cui più culture condividono il medesimo spazio sociale si tratta di un processo sociale strettamente legato all'attuale intensa fase della globalizzazione come abbiamo visto anche ieri che fa circolare non solo merci e forza lavoro ma anche soggetti portatori di specifiche identità culturali e religiose identità che contrariamente al passato non vengono occultate nello spazio pubblico e si manifestano sotto forma di domande di riconoscimento in una situazione tra l'imperativo di riprodurre coesione sociale e quello di garantire diritti le società europee hanno elaborato una serie di modelli di integrazione culturale di tipo etnocentrico o universalista che hanno il compito di regolare la convivenza tra autoctoni e no tra maggioranze e minoranze nazionali da un lato e minoranze immigrate dall'altro i modelli adottati sono assai diversi il modello assimilazionista francese il multiculturalista ollantesi o il modello velfarista di tipo scadenavo la germania ha optato per lungo tempo per un modello di esclusione differenziata o di istituzionalizzazione della precarietà sul piano culturale e della partecipazione civica lo stato tedesco incoraggiava gli immigrati a coltivare la propria cultura originaria in vista della prospettiva del loro ritorno al paese d'origine in questo senso la germania ha contribuito per decenni a tutelare l'integrità della cultura turca attraverso il finanziamento di scuoli corsi di lingua e formazione religiosa negoziati direttamente con la turchia paesi dal quale proveniva grande parte della forza lavoro immigrata l'integrazione dei gas arbeiter nella società tedesca era ritenuta oltre che non augurabile un inutile costo sociale dal momento il loro orizzonte d'attesa era quello del rientro un modello che non ha retto per motivi strutturali come l'imponente crescita economica e la necessità di mano d'opera il ciclo migratorio si è stabilizzato i turchi sono progressivamente usciti dal ghetto etno religioso attraverso la frequenza delle scuole pubbliche tedesche scelta che offriva loro possibilità di mobilità sociale verticale e di cambiamento di status e il crescente numero di matrimoni esogamici così il modello della precarietà istituzionalizzata è stato svuotato le modifiche alla legge sulla cittadinanza negli anni 90 che rende più semplice diventare cittadini tedeschi ha registrato questo cambio di prospettiva adesso parleremo sull'identità culturale tedesca la formazione di un'identità culturale moderna della germania è strettamente connessa all'istoria della nascita dello stato nazionale unitario tedesco il cammino verso lo stato nazionale tedesco concluso solo nel 1871 è iniziato al principio dell'ottocento come reazione al dominio di napoleone bonaparte sentito come alieno questo sviluppo è rispetto preparato dall'ipotesi di un'identità culturale specificamente tedesca quella patria del tedesco si chiede nel 1813 Ernst Moritz Arndt e nella sua risposta tentava di superare il fatto storico del regionalismo e particolarismo tedesco con l'idea di una nazione culturale tedesca la metafora scelta da Arndt per indicare la cultura cioè la lingua veniva arricchita di ulteriori contenuti tratti dal pensiero idealistico e storicistico del diciannovesimo secolo furono eretti a caratteri salienti dell'identità culturale tedesca la letteratura il diritto le arti figurative l'architettura la musica la filosofia e non di rado con delimitazioni ideologiche nei confronti delle culture romanza e slava trasfigurano soprattutto l'alto e il tardo medievo con il suo gotico ogivale e infine anche l'epoca della riforma quali periodi originari della cultura tedesca in realtà tuttavia questo costrutto come base per un'identità culturale nazionale tedesca dovette rivellare in seguito la propria portata limitata infatti se da un lato emerse ben presto che l'identificazione regionale paesane ad esempio bavarese badenze franconi eccetera erano ben solide dall'altro e ges esercitava effetti duraturi soprattutto l'identità confessionale dei tedeschi protestanti e cattolici che si spremeva in forme diverse proclamare il protestantismo luterano come espressione classica della reggigliosità specificamente tedesca di fatto significava escludere per principio la parte della popolazione di confessioni cattolica come anche quella ebraica dalla costruzione dell'identità culturale tedesca fu nel contrasto politico-culturale che oppose protestanti e cattolici il cosiddetto cultura camp negli anni 1870 che ebbe il suo acchimi questo tipo di formazione identitaria attraverso l'esclusione vero è che il protestantesimo e il cattolicesimo caratterizzavano culture tedesche del tutto diverse nella vita quotidiana nel lavoro nella devozione e nel sapere con l'uscita dell'austria della federazione dei stati tedeschi e la fondazione dello stato nazionale prussiano del 1871 l'identità protestante acquisì la supremazia il costrutto di arndt inteso in senso integrativo della nazione culturale super regionale e super confessionale cedette il campo a una linea identitaria che andava da lutero e federico il grande a bismarck attraverso le quali la quale la consapevolezza della superiorità intellettuale della parrocchia evangelica l'orgoglio delle creazioni di classicismo di weimer con le virtù prussiano militari del senso del dovere della fedeltà e della puntualità da un lato e la zeuta esaltazione pseudo religiosa dell'arte dall'altro si combinavano in una miscela che in un'epoca di nazionalismo smaccato poter assai facilmente assumere i tratti di un delirio tra le questioni più controversi nel dibattito sull'identità culturale dei tedeschi via quella sulle cause mentali della catastrofi della seconda guerra mondiale e del genocidio degli ebrei europei di cui si resero responsabili i tedeschi non è il tema di questo intervento le conseguenze dell'olocausto però loro dimostrano la fragilità di questa identità culturale tedesca e anche le difficoltà dei tedeschi per pensare e sviluppare soluzioni per la domanda dell'identità culturale e dell'integrazione la germania dopo il 1945 attratto dalle delle elezioni delle catastrofe della prima metà del secolo 20 posizionando ex novo la propria identità culturale entro un sistema di coordinate che si sente totalmente obbligato nei confronti dei valori dell'occidente in particolare della libertà dell'individuo nella sua autodeterminazione responsabili della pari dignità di tutti dei diritti dell'uomo del pluralismo delle tolleranza e della democrazia nel corso nel corso del processo dell'integrazione della repubblica federale di germania nelle sfere occidentali l'identità tedesca si è iscritta sempre più più in un'identità culturale europea che riconosce le proprie radici nelle conquiste dell'antichità greco romana e giudaico cristiana la via tedesca verso l'occidente era una via verso l'europa e si compie attraverso una serie di processi di integrazione al cui termini forse al prezzo di una secolarizzazione progressiva era posto anche il superamento dei contrasti confessionali fa parte dell'identità culturale tedesca di oggi la consapevolezza consapevolezza della pluralità cresciuta istoricamente dei caratteri regionali che nella vecchia repubblica federale di bonn prese le distanze da qualsiasi esaltazione ideologica della nazionalità dello stato e della cultura professando uno spassionato e pragmatico patriottismo costituzionale come espressione dell'identificazione con la legge fondamentale in quanto frutto maturo dell'accidentata via tedesca verso una cultura politica della modernità i tedeschi che abitavano dietro la cortina di ferro per 40 anni rimasero tagliati fuori da quali da tali sviluppi nello stato socialista della rdt contrassegnato da tante cara in carenze non fu possibile la formazione di un'identità culturale autonoma sostenibile probabilmente proprio a causa del fatto che era lo stato stesso a prescrivere un identità socialista votata alla lotta di classe tuttavia nel 1990 i tedeschi dall'est hanno fornito un loro contributo molto prezioso alla formazione della nuova identità culturale della repubblica di berlino nella rivoluzione pacifica che sfociò infine nella riunificazione dimostrarono che la morte non è affatto sempre tipico di questa situazione ma che sono proprio i tedeschi a possedere il potenziale di articolare ed imporre la volontà di unità nella libertà senza violenza e tuttavia sarà più probabile che in un prossimo futuro il dibattito sull'identità della germania verta più sulla questione della società multiculturale piuttosto che sull'antagonismo tra est e ovest esisterà ancora un'identità culturale o saranno molte identità simultanei a rispecchiare il sussistere di diverse società parallele in germania che a loro volta sono il risultato di molteplici processi migratori la richiesta di un minimo di compatibilità ad esempio tra le identità culturali improntate alla religione musulmana e l'identità culturale della germania come si è sviluppata dopo il 1945 debitrice dei valori dell'occidente e quindi una cultura guida tedesca dal 2000 ha societato parecchi dibattiti come abbiamo visto non si può identificare una cultura tedesca uniforme la diversità culturale è una caratteristica della formazione culturale tedesca già in sua origine e anche nel suo sviluppo e trasformazione ci sono numerosi esempi di cosiddette tradizioni culturale tedesche oggetto di discussioni di una voluta protezione dei gruppi conservatori e di estrema destra che in realtà non hanno neanche un secolo di storia la tradizione culturale tedesca è ancora giovane e è una costruzione basata sulla diversità una cultura che si trasforma tutti i giorni sempre e deve essere aperta all'integrazione un modello è inclusivo capace di garantire coesione sociale dovrebbe fondarsi su una concezione dell'integrazione imperniata su tre elementi cultura condivisa pluralismo culturale e partecipazione civica per quanto riguarda i valori condivisi indipendentemente dell'identità culturale dei singoli o dalla loro appartenenza a una specifica comunità la base non può essere costituita che dalle regole comuni si tratta di costruire consenso attorno agli aspetti procedurali piuttosto che ai valori intervenire normativamente su questi a meno che non violano i principi di ordine pubblico è inutile inefficace la loro trasformazione è legata più all'interazione sociale che a dimensioni prescrittivi essenziale invece la piena accettazione della democrazia e delle regole del gioco che la sostanziano quanto al pluralismo è occorre definire cioè o meno riconoscibili i termini di identità culturali in sintesi nessun riconoscimento di diritti che si configurano come negazione dei principi costituzionali in nomi di eccessioni culturali religiose quanto alla cittadinanza è strumento imprescindibile per produrre lealtà politica è necessario da un lato pensare a una più semplice modalità di accesso di accesso alla cittadinanza dall'altro all'implementazione dei processi di inclusione mediante la progressiva estensione del diritto di voto a partire dalle elezioni amministrativi agli stranieri la partecipazione civica è da sempre un potente fattore di integrazione se sorretta da un modello di integrazione culturale inclusivo aumenta la disponibilità del capitale sociale basato sulle relazioni di fiducia di una collettività alcuni aspetti conclusivi anche ovviamente che è impossibile dare una soluzione per l'integrazione in Germania o in altri scenari il tema dell'integrazione dei migranti e dei rifugiati rappresenta una rilevante emergenza sociale e formativa del nostro tempo tale questione impone una riflessione critica sulla nozione di integrazione sociale così si tratta in realtà della questione se e in quale misura le frammentate società post moderne necessitano di una base comune di valori e identità per funzionare in modo pacifico ed essere in grado di garantire il bene di tutti certo è che la bella utopia di una multiculturalità non regolamentata si scontra regolarmente con i limiti della realtà allora quando si tratta di accordarsi su una lingua comune per assicurare una comunicazione ordinata nella conoscenza del sistema politico del diritto dell'istoria e cultura del paese in cui si vive nonché di accettare certi standard della convivenza come ad esempio le parità di diritti delle donne si può discutere sul fatto che se per questo sia necessaria un'identità culturale nel senso di cultura guida ma è certamente dubbio che le società possano sopravvivere nel lungo periodo senza un'idea comune, senza un'identità che la sostenga per questo è fondamentale l'integrazione tra le culture diverse nella Germania e in diversi altri paesi rispettando la diversità un'integrazione però necessaria senza dimenticare che la cultura di un paese non solo nella Germania è composta esattamente della diversità grazie grazie ad Alessandro Hirata che naturalmente ha messo moltissima carne al fuoco e così mi permetto anche di segnalare tre contributi due dei quali da costituzionalisti tedeschi che sono arrivati più o meno insieme nel periodo della riunificazione delle due Germanie e che secondo me si collegano anche se indirettamente a questi temi e cioè l'elaborazione da parte di Peter Heberle della dottrina della Costituzione come documento culturale secondo la quale prima che giuridico il documento costituzionale è una sintesi, un quadro della cultura di riferimento di un popolo e pretende naturalmente di dare efficacia giuridica alla descrizione di questo quadro trasformandolo in un atto prescrittivo e qui si instaurano a dialettica interessante perché se una costituzione è il quadro culturale di un popolo ha necessariamente delle pretese limitative rispetto alle potenziali aperture verso altre culture e pretende di avere idoneità a conformare queste altre culture con le quali entra in contatto e quindi necessariamente a delimitarne la portata ed eventualmente a suggerire una prospettiva di tipo assimilazionista nella prospettiva che forse è quella di Heberle gli altri due contributi partono con riferimento al dibattito, forse addirittura innescano al dibattito sul deficit democratico europeo ma in realtà parlano molto di Germania, mi riferisco alle contrapposte visioni di Jürgen Habermas e di Dieter Grimm Habermas che dice in sostanza essendo la costituzione un programma ci vuole una costituzione europea per creare l'Europa la costituzione europea è un programma politico da realizzare quindi le elite politiche e culturali devono creare un popolo europeo attraverso una costituzione europea, dibattito di inizio anni 90 quindi ormai ha quasi 30 anni questa discussione Dieter Grimm, tipo un po' più tradizionalista, gli risponde facendo riferimento ai canoni consolidati caro Habermas non si può dare una costituzione senza un popolo, non si ha un popolo senza una cultura comune non si ha una cultura comune nell'Europa di oggi, faceva riferimento a quella degli anni 90 ma il discorso mi pare valga anche oggi se non c'è una cultura non c'è una classe politica, ce ne sono tante, se non c'è una cultura e non c'è una classe politica non c'è un'opinione pubblica dunque non ci sono le basi per poter parlare di popolo europeo ma di popoli europei quindi non ha senso senza un popolo parlare di una costituzione europea questo dibattito secondo me risente molto delle discussioni interne alla Germania dell'epoca poi lo possiamo anche estendere al dibattito in corso sull'Unione Europea grazie a tutti grazie a tutti